Qualcuno ha provato a sentire Matti? Buono, rispondo ai messaggi. Prima di iniziare con la lezione di storia, volevo informarvi che è un ragazzo che conoscete, è scomparso e sembra sia nel bosco del cupo, luogo che voi credo conosciate. I bambini qua hanno detto che ci scomparivano. Manu! So che Matti è scomparso e se fosse venuto qui potrebbe essersi perso. Anna ti prego, non dobbiamo dividerci. Grazie per la visione! Grazie per la visione!